Ma buongiorno! Finalmente dopo qualche giorno di pausa ripartiamo con un allenamento Total Body. Oggi ragazze vi serviranno la data circolare solita per il nostro allenamento grande, due manubri o due bottigliette d'acqua a vostra scelta. Come al solito partiamo sempre con la prima parte di addome, quindi posizionatevi con il tappetino che andiamo a svolgere 5 esercizi per 40 secondi. La musica? Siamo! Ok, posizione! 10, 9, 8, prendo un'altra acqua. E da questa posizione stendo il tuo armo. Stendo, torno e alterno la gamba. Come state ragazzi? Tutto bene? Allora, come la maggior parte di voi ha potuto leggere su Instagram, ho fatto la tecaterapia al ginocchio. Quindi questo workout è più un test per il mio ginocchio, per vedere come reagisce sotto il sforzo, per valutare se mi fa ancora troppo male o se è possibile riprendere l'attività pubblica. Adesso facciamo un grancio e vado a toccare il tallone. Questo è perché il mio ginocchio mi fa male solo sotto sforzo. 20 secondi. 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Andiamo a fare lo scissor. Le sforbiciate incrociando le gambe. Via! Comunque la tecaterapia è andata molto bene ieri. Forza! 20 secondi! Ragazzi, ho già girato un video con gli addominali un attimo prima di fare il testo. Finisce che ho letteralmente in un fiamme. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Dobbiamo fare il butterfly sit-up. Quindi apertura larga delle gambe. Salgo completa e scendo. Allora, con gli addominali faccio pratica a parlare. Quindi stecaterapia è andata bene. Oggi dobbiamo prestare il ginocchio sia con un workout a corpo libero pesi bassi, quindi quello che andrà a fare con voi, e sia con l'allenamento di topo. naturalmente non vado a fare uno squat super caricato. Magari carico il bilanciero un po' meno. però, dobbiamo valutare come riesce a scendere. Adesso cambia il tavolino e da questa posizione tocca i perni e torno. Via! Tocco e torno. Dai, ragazzi, dai! Tocco e torno, tocco e torno. 20 secondi. Speriamo che il ginocchio si ripresa bene. Mi manca allenarmi tantissimo. Torniamo al primo. Ma questa posizione piego e stendo. Via! Piego e stendo. Poi, se il ginocchio non mi dà problemi, come avevo promesso, inizieremo con le dirette. inizieremo con le dirette. Piego e stendo. Venti secondi, ancora! Continuo, continuo. mai girare un video di addome prima di fare un altro video 3 2 1 cambio crunch e andiamo a toccare il tallone via crunch tocco sapete che dopo due settimane che non andrò le gambe cioè facendo questo movimento accuso tantissimo il quadricibile 4 3 2 1 facendo schifo regolatemi schizzo piccolo e incrocio tengo le gambe alte semplicemente perché la zona lombare e quei addominali deve rimanere sempre in appoggio se io passo in questo caso mi si va a inarcare la zona lombare quindi non sento lavorare gli addominali ma sento lavorare cioè sento tirare semplicemente la schiena stessa cosa deve essere per voi se non avete la giusta mobilità alzate le gambe ma attivate solo ed esclusivamente la parte addominale è la scena di schiena e eccessivamente la parte addominale e eccessivamente la parte addominale e noi vogliamo un nuovo faccio piatta e noi vogliamo un nuovo faccio piatto e noi vogliamo un nuovo faccio piatto e quindi bisogna soffrire venti ci siamo eh è tanta fatica ma ci siamo fai il boot up gambe a tavolino andiamo a fare table to top top e torno vai dai 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 se mi fa male di nocchi ho fatto sentire in curva te lo sto facendo solo per voi giustamente scherzo eh 4 3 2 1 stop 8 minuti di addominali fatti adesso 40 secondi di squat and press 40 secondi di crab walk con la banda elastica 20 secondi di recupero in quei 20 secondi di recupero vi faccio vedere la sequenza dopo di spalle perché andiamo ad abbinarli e poi li rifacciamo tutti e due 20 40 ok 20 secondi di recupero 20 secondi di recupero sotto il ginocchio sotto il ginocchio con i manubri aprite bene le gambe e facciamo squat and press ok ok quando suona il timer ci sta dando il cambio quindi partiamo subito con il crab walk via squat and press squat and press squat squat salgo giù torno ancora oggi total body un bel richiamo di tutto il corpo squat press su su ancora su su non abbiate fretta eh fate ripetizioni lente ma dovete sentire lavorare bene tutti i muscoli manubri d'appoggio trap walk vado trap walk fattivo bene il gluteo eh dai che dopo c'è la pausa giù giù forza quanto siamo? quindici secondi forza sette cinque quattro due uno pausa durante la pausa la banda la possiamo tenere tanto non ci crea problemi cioè dopo la pausa una alzata frontale ce la posso fare una alzata laterale una alzata frontale al secondo giro andiamo a fare il plank braccia tese dopo spalla via laterale frontale laterale frontale su front forza spalle 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 venti secondi ragazze due non mollate pesetti leggeri dieci continuo cinque quattro tre due uno cambio da questa posizione tocco tocco intorno addome attivo spalle infiamme forza dai che ci siamo dai venti secondi dai ragazze dai 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 dieci 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 non mollate eh non mollate perché è solo la prima sequenza questa due uno e di nuovo squat and press ci siamo posizione il tempo di recupero sono solo dieci venti secondi tutto bene via squat press 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 scendete senza superare la linea di piedi col ginocchio ci siamo quasi 10 secondi 10 secondi ginocchio tutto bene spalle bruciano uh cambio frag walk manubri appoggio spalle vado laterale e torno ancora ancora e torno ancora dai non sarete già stanche? forza 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 ci siamo ci siamo 4 3 2 1 e pausa alzate laterali alzate frontali potete anche togliere l'elastico eh? tanto la sequenza dopo non ci serve via laterale frontale dai ragazze devono bruciarvi bene bene le spalle eh? dai 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 ci siamo quasi dai ragazze 10 secondi e prendiamo giù in plank eh? 3 2 1 plank to tap quindi plank tocco tocco la spalla tocco la spalla dai ascoltate la musica e non la fatica ci siamo quasi 10 8 6 4 2 1 e cambio 3 3 3 4 4 4 5 5 6 8 9 9 10 10 12 1 punch consecutivi allora comando squat gamba destra quindi come mettiamo il tappetino così vado a fare uno squat tappetino sotto perché dovete appoggiarvi con le ginocchia e utilizziamo solo la gamba destra scendo scendo salgo con la destra salgo con la destra piegamenti sulle braccia scendo 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 salgo 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 se volete aggiungete un jump scendo 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 salgo 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 se volete fate un salto salgo salgo e qui salto scendo scendo torno torno salto scendo 5, 4, 6, 2, 1 piegamenti scendo su col petto e torno giù col petto e torno forza, 20 secondi forza ragazze, 10 qui stiamo lavorando il petto un bel riusciamo al precipite pausa, 20 secondi e partiamo con la gamba sinistra ci siamo, 4, 3, 2, 1 via scendo, scendo salgo, salgo salto forza dai 20 su 10 5, 4, 3, 2, 1 manubri consecutivi via manubri leggeri mi raccomando dai 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 bruciano le spalle bruciano ci siamo, ci siamo 4, 3, 2, 1 20 secondi dobbiamo ripetere gambe a destra piegamenti tutto bene? ci siamo? dai ragazze via giù destra torno e jump presto ci provo e jump jump ragazze vi ricordo di seguirmi su instagram ve lo lascio qua sotto di seguire soprattutto le storie perché quando ho qualche richiesta per youtube chiedo tutto di là 3, 2, 1 piegamenti perché se ho richieste da farvi o domande chiedo tutto su instagram e poi non solo dai che ci siamo 15 2, 1 gamba a sinistra su instagram comunque pubblico tutto diverse informazioni sull'alimentazione sui massaggi sugli allenamenti sulla vita in generale di uno sportivo quindi seguitemi sinistra scendo e torno e poi inizierò anche se il ginocchio va bene comunque oltre a fare una diretta settimanale qua su youtube la farò soprattutto su instagram dai ci siamo quasi ci siamo 5 4 3 2 1 punch manubri o potete farlo anche senza e via veloce 20 secondi 20 secondi mi raccomando mi raccomando non far volare il manubrio ogni tanto succede e cambio allora altra sequenza abbiamo mountain climb poi è plank rope quindi plank quindi plank rope poi affondi più carlo faccio un affondo passo dietro quando torno fletto e per ultimo abbiamo lo spiderman approfittatelo a recuperare quindi da qui salgo scendo lo possiamo fare anche con questa se volete si sta rompendo torno torno ok la mia si sta rompendo ok quindi mountain climb stessa metodica 40 40 20 10 secondi 3 2 1 questo lo odio via vai dai 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 20 4 3 2 1 plank rope plank rope 1 2 1 2 2 3 2 3 4 9 9 10 10 2 3 5 ci siamo mi sono ammutilita un attimo affondo più Carlo perché stavo pensando che sono già le due ci siamo eh mi raccomando alternate la gamba via a fondo a fondo torno a fondo torno carlo ancora allora allora oggi sembra che ci sia bella giornata in realtà in questi giorni ha fatto un freddo alterno la gamba scendo e torno che non potete capire cambio spiderman spiderman porta tappetino sotto la pancia via salgo scendo 15 secondi 15 secondi 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Non va bene, non va bene. Oggi fa caldo, forno fa freddo, poi non si sa. e così questo mese va così ragazzi è il più brutto via continuate non mollate non mollate ci siamo quasi 20 secondi 10 5 4 3 2 1 cambio flanc rocco 2 3 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 12 12 13 12 13 14 15 15 15 15 15 16 17 17 18 18 18 19 20 20 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 20 22 22 20 22 22 23 22 21 22 23 24 24 26 25 Allora per 10 secondi Cambio Allora It, trust, frog Grigio e domestico Allora ragazze Il primo che andiamo a fare è It, trust Mettete pure la banda circolare Io non la metto per sicurezza Apertura dell'infrust Questa Movimento il solito Salgo con il lunto e scendo Ok? 10 secondi e partiamo Dopo questo abbiamo Un'infrasso In isometria Quindi gluteo rigido E poi gli altri vi faccio vedere la pausa Via Vado a circolare Potete anche mettere i pesci 10 secondi e partiamo Forza Forza Strizzo e torno Strizzo e torno 10 5 5 4 3 2 1 Rimango su L'ultimo L'ultimo contratto Stringete 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 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Torno su Jumping jack per 40 secondi Questo Poi Posizione di plank Vado a fare con Spider-Man Scendo E incrocio Il gomito con il ginocchio 3 2 1 Via Forza 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 20 Secondi 10 10 5 4 3 2 1 Giù E torno Torno 20 Secondi Ancora Mi dà un po' che tira un fastidio Poco poco Torno Mamma mia Ultimo ragazzo Torniamo all'istratt Vi fa che è il disinfettante Che metto sui tappetini ogni volta Mi crea Sibilizzazione 3 2 1 Su Su Sai che è finita Strizzo bene scendo Strizzo bene torno Strizzo bene torno Mi raccomando Banda circolare Soprattutto per il bridge isometrico E Apro Subire il gluteo Subire il gluteo Strizzatelo eh Dai che è finita 20 Secondi Mi sento Una volta in meno pausa Senza offesa eh Parlo per Le scalmagni che faccio oggi Strizzo 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 Cambio Abbiamo gli ultimi due Mountain Climb e Spiderman E poi abbiamo Terminato Quattro Tre Due Uno Via Bene ragazzi Belle che è finita eh 10 secondi Due Uno Giù Partite via 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 Dai ragazzi L'ultimo eh Ultimi 20 Ultimi 10 Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Stop Allora Ho messo pochi Giampo Come avete Posto Vedere ma Non Non volevo Arrivare a metà Circuito E poi dovermi Fermare Perché avevo Dolore al ginocchio Comunque Sembrerebbe Che sia andata Bene Come al solito Scrivetemi Lasciatevi un commento Per qualsiasi richiesta Dubbio O domanda Io vi risponderò Ora Vi saluto Fate stretching E ci vediamo Al prossimo Allenamento Scriviti 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 Scriviti